Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 che. a tutti. 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 a tutti. . abbiamo. tutti. 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 . 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 L'Aula si sta cercando di fare valore che operatino permettere proprio al centro la delle distanze di Stato come in Pionte e nella parte c'è anche il grande rivolgimento da parte della regione in Pionte. Sostanzialmente c'è la volta anche quest'anno di mettere un piano di investimento importante. Chiaramente approfondiremo anche nel bilancio di protezione alcuni elementi che dovranno andare in Italia, ma è la linea strategica che il settore, perché la città è un'altra per il Canada, per il centro del patrimonio in Italia, perché alcuni anche lo stondimenti entrano facciano e lo sanno anche nel prossimo punto della protezione del financio. Grazie. ringraziamo il consiglio di Zardino se ci sono interventi davanti a rinnovazione quindi se noi ci interventi passiamo alla notazione chi ha favore il punto numero 8 chi si estiene con il consiglio di guarnici il consiglio di guarnici e il consiglio di guarnici poi a mai che stiamo in tutto vogliamo anche vogliamo che si estiene chi si estiene che si estiene passiamo al punto punto 9 adottorio il piano di realizzazione mondiale ai sensi dal 12.8 e al 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 12.8 la rinnovazione dei beni immobili sostanzialmente segue anche in un certo modo la falsa riva di quella approvata dall'anno scorso con unica indicazione che stiamo in una fase della quale anche attraverso l'autorizzazione del Stato con il Consiglio di San Paolo prima in una quale c'è stata una grande interruzione con Ancora che abbiamo immaginato di fare il rischio di cercare alcuni immobili legando anche questo tipo di attivizia di attività di un'ampia promovigione con un'ampia di poter sviluppare la nostra operazione soprattutto su Santa Maria quindi in sostanza la legittà che viene anche di fare di questo di questo del gruppo delineo un percorso che era già stato lanciato l'anno scorso e su quella linea noi ci siamo arrivati con un'unica eccezione della valorizzazione della notizia dell'area che è in accia e non cercare di in ambito di questa condizione tra questi due di valorizzare Santa Maria la propria di valorizzare il sito che è la quale ha avuto già il ministero e il ministero di casa ringraziamo il consiglio di Stattino se non ci sono interventi passiamo all'avocazione chi è a favore dell'avocazione dell'avocazione sul piano delle alle azioni in modo che è un punto punto chi è a favore chi è a favore chi si astiene del contrario come prima ci potiamo anche in realtà di subire l'avocazione che ha favore chi si astiene che potrà come prima adesso adesso passiamo a punto punto nove e punto 10 adesso se come punto anche di fare un'unica discussion tra l'anarche più termine questa è una cosa che è la l'anarche di la l'anarche e anche quando riguarda lo schermo di bilancio di previsione di fare unicamente discussione che può partire da l'anarche di successiva e poi si porterà a regolare la base di la discussion unica dove poi si accorderà tutti i diversi che sono da l'anarche quindi su questo punto ancora la discussione è unica e ora si è un'unica quindi non è un'unica non tutto e che porteremo da possiamo dire come dire gli 20 studiamo dopo cioè facciamo tutte le discussione ma andiamo a votare vogliamo cioè tutta la discussione ci siamo e in 20 ma dove vanno a tirare la discussione cioè che in 20 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 ... 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 quindi passiamo alla descrizione il primo è il piano spostamento relazione il piano spostamento casalato il piano spostamento casalato il piano spostamento il piano spostamento insieme alla parte riscrittiva con le azioni ho visto anche a questo con le azioni se non ci risposta non ci risposta non ci risposta non ci risposta ma ci risposta non ci risposta di più chi è deciso degli interventi poi facciamo la votazione vogliamo votare anche io non ne chiamo anche io sono inscritto No, vogliamo prendere un'altra parte, un'azione del consigliere, che chiaramente fa una relazione generale, sia soprattutto subinamici, ma se non fosse una relazione contraddizionale, ovviamente, iniziati a votare o in una relazione generale, eccetera. Adesso, il mio ragionamento è molto giusto. Ogni ragionamento lo scudiamo, lo vogliamo, poi dopo c'è la giustizia subinamici. Credo che sia così, pure perché tra gli altri detentamenti non preparavano il loro favorevole, il nostro produttore, altri che sicuramente non trovano per tutti. Chiaramente, non è diventato il nostro gruppo. Non so, io ecco, a parte che ho appena tutti stati votati qua. Ora ecco, ecco, poi qui, credo, la ricerca è così. Mi scusi, Silvia, Rosalia, che è arrivato? Io che adesso sono conservato per lei, che adesso è piuttosto bello. No, ti volevo dire. Poi, è chiaro che dobbiamo votare gli ammettamenti uno per uno. Se li vogliamo più illustrare tutti e poi li vogliamo uno per uno, o facciamo l'illustazione di tutti. E poi, vista questo presenzo, lo sono tornati, dove i consiglieri la dava all'inizio della scelta. Sui social, io rendo città più montanari. Quindi, conseguenzialmente, ritengo che su quella pagina ci possono essere sicuramente tutte le iniziative che facciamo un'amministrazione, però non si legge mai un consigliere dell'imposizione. Chiaramente è più scabato, non è più sapere come ci tengo a lui, però non c'è stato un posto sui soci, da quando faccio l'imposizione, che abbia dato un consigliere dell'imposizione. Questo va a segnare a chi è nel nostro ufficio Stato, che è quella che città nel Comitato di Napoli, che non è maggioranza della città nel Comitato di Napoli. Grazie. Allora, sull'emendamento, piano spostamento, gas a lavoro, gas a lavoro, se non ci sono gli interventi, gli interventi. Grazie. 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 Caudioso presente, primati assente, guanchi presente, bussato presente, marrazzo presente, uccemo presente, e li scende, un'inizia, 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 un'inizia. Caudioso presente, sei gay, un'inizio e i zaggi. Quindi abbiamo ogni regalo del Caudiamo, ora ritorniamo alla discussione, l'approvazione degli emendamenti al gruppo. Il primo emendamento è l'abriamo spostamento caso al lavoro che è stato già descritto, non so se ci sono interventi, in questo modo ci viene passata la votazione. Coraggio. Il primo emendamento è l'abriamo spostamento. Integrazione scheda D degli affidamenti e gli accordi quattro. Consiglio è veramente felice sottotitolo che scrive il sottotitolo, non lo so, forse è un emendamento etnico. Va bene, va bene, ecco io. Il programma finale della RU, c'è la parola dell'imperazione del Sino Metropolitano nel 1975, quindi quattro aggioramenti che avveravano giunto, con una serie d'accordo in quattro di convenienza delle direzioni delle scuole 1 e scuole 2, il cui avere procedura di affidamento è previsto per la normalità corrente, ma lo stanzamento è in grado giocato nella tua scuola in quattro 26. Nonostante la scheda D della qualità di attività della procedura di affidamento, si è stato un problema di identificato il futuro di risultato che è un bel reclutore e l'appunto di un salto della Sino, tanto che ci sono un rapporto uguale, presente nello schema D, con valori vari a 0 e la nuova quantità, questo spazio è veramente di portare nella scheda D della scuola, contare nel tratamento che entri così bene e inserire nella scuola della scuola della scuola, sia la realtà di dati dell'amiciatore del futuro di fatto, come dall'albligato dell'elettro. Tali modifici danno quattro ci genereranno un modo su un raccoglio di un rischio di giocato a piena anni e a un'unice, grazie. Ci sono gli interventi a questo punto? Allora, siamo voti, contrari, assenuti, favorevoli, probabilmente. Diamo poi una serie di inventamenti, di quali sono presentati dal consigliere il domenico esposso della tagliata, che riguardano il sistema integrale di protezione e quindi si dice che non c'è una cisterna, un po' migliata, ma ci trovo. Non so se non devo intervenire la mamma. Certo, presentati. Adesso, pagando la discussione adesso con i consiglieri, visto che questo sottostritto sempre da persona corretta e la cosa che non fanno gli altri, con i miei confronti, si è deciso di ritirare i miei eventamenti, perché io quando di una volta la faccio da uno di mano a mano. Avevo pensato a fare questi eventamenti, a fare questi eventamenti nelle protezioni civiche, visto che a Bruciano, a Pazzello, a Gesserni a Pugliano, da Luglio e da Agosto, ci sono dei prete per me che avessi portati in prima testa dei cittadini, di dare qualche contributo per la sicurezza e quindi si era pensato di dare il contributo alla protezione civile. La mia insegna era di accorpare tutte le protezioni civili, visto che non hanno neanche la benzina per poterle camminare, non hanno a momenti neanche le dute, si era pensato di fare, o pensano anzi, di fare questo, questo che non è possibile, però mi hanno professo che poi a fine anno ci saranno tutti i miei eventamenti, quindi io farò da salato per gli altri i miei principi, visto che mi parisco la mia serietà e le cose che mi fanno gli altri, io mi tirerò i miei eventamenti, da persona per me e le ha una grazia. Grazie Sindaco, voglio ringraziare il consigliere Avaia che ha detto veramente tutto il fatto, che mi ha contattato insieme, avevamo ragionato su questa situazione della protezione civile, gli dissi che il suo intervento, un corrigore, un fornitore, un fornitore, un fornitore, un fornitore, che era il presso di protezione civile in città metropolitana e oggi abbiamo avuto un articolo con, diciamo, di discorse ampli e quindi lo ringrazio, come ringrazio tutti i consiglieri, gli sindaci che siedono qui, questa serrea, che non era possibile in fase di annuncio, del cancio, per vedere solamente tre comuni, a rispetto a due comuni, quindi l'induligno, come è legato, l'induligno che anche l'amministrazione del Sindaco, l'amministrazione del Sindaco, l'amministrazione dell'amministrazione 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 dell'avvento, l'amministrazione del Sindaco, l'amministrazione dell'amministrazione hanno come conseguenza una modifica del bilancio, quindi la pubblica formale è possibile approvarli solamente subordinatamente a una modifica che non lo considera attuale se viene approvato per il rendimento al bilancio corrispondente. Questa è stata la posizione del progetto dei soli, quindi questi discutiamo quando passiamo a destra le modifiche del bilancio, quindi con la dichiarazione afferbata che se passano il bilancio automaticamente viene adottata la modifica del bilancio, quindi un atto conseguenza. Poi abbiamo il punto 9 che è la modifica al paragrafo della titola delle sezioni partecipate, di questo punto. Poi, se vi la rispettino, è la modifica. Non esattiva di niente. Prego. Sì. Sì. Allora, sotto, sotto. No, parlo. Sì. Sì. Buongiorno. Questo menzamento riguarda la posta che era il bilancio in pratica, in previsione della conseguenza della vendita di 5,1% delle azioni della sabbona. Ora, è noto che questa dismissione, questa vendita, non si è, diciamo, realizzata per effetto del mancato pagamento del 15 giugno da parte degli enti d'ambito dell'importo corrispondente al 50% delle azioni fatte, poiché era prevista la condizione risolutiva in un articolo, diciamo, dell'atto che accompagnava questo intervento, si è praticamente reso necessario ritornare particolarmente sulla previsione di bilancio che la contempla, al fine di arrivare lo stesso a una realtà che si è consumata. Grazie. In questo punto se ci sono gli interventi, prego. Grazie. 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 Lui, il credo come gioco, perché non sappiamo se c'abbiamo il 49-100, che telefonicamente, lui telefonicamente, parla con il Presidente del Collegio, lui telefonicamente parla con i soci di città di un'umanità, ma non per una telefonata per dire come sta, cosa sta succedendo, no, una telefonata per partecipare all'asta e per l'acquisizione di un immobile che indirettamente dovrebbe acquistare città metropolitana, perché agisce di nuovo per conto di città metropolitana. Allora, sindaco, io su questo argomento credo che, visto che non stiamo adottando l'avventamento, e visto che c'è la conferenza dei sindaci, i quali sindaci molto importanti per cui non hanno arrestato i soldi in una città metropolitana, e lo sappiamo, che non è certo una dignità sanitaria, o perché quel giorno avevano il computer loro per fare il politico, non hanno arrestato per motivi giuridici, per motivi di parte alla desistenza della morte dei comuni e per azioni di responsabilità comuni giuste e di riflessione su una commessa che sta diventando importante. Questo consiglio non può, questo consiglio, questa città, non ha due comuni, non possono affidare un fatturato di 140 milioni di euro, in mano a una persona che, a livello proprio di grande manager, fa addirittura i prepari asseverati telefonando. Credo che su questo argomento ci debba essere, da parte del consiglio del politico, un'altra città, un altro importante, non so quale non deve essere, ma sicuramente un altro indirizzo per fermare un'azione amministrativa che per il dottor Gargano sembra ordinaria. Tutti i quali, compreso l'ex, però, sta facendo una riflessione, sta aspettando cosa la regione, magari rispetto alla legge regionale, può arrivare, ma questo invece è ordinaria, e io ho detto quel verbale, quel verbale dice, ma che sta dicendo? Io sono sul conto correndo una giacenza media di 40 milioni di euro, ma che sta dicendo? Come vuoi vedere, di parlare, di dire, di fare? Scusami, che avrò ragione, ma se c'è una giacenza media, 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 c'è una giacenza di un figlio, come mai ha operato le azioni che vengono 500 milioni di euro? Quindi credo che, visto che anche la confidenza in questo consiglio di modalità, e eventualmente fare le azioni di responsabilità, certo, all'amministrazione, perché le azioni di responsabilità possono essere fatte, rispetto a una gestione che deve essere... non voglio usare la parola prasparenza che viene sempre accusata, però credo che sia arrivato il momento che questa amministrazione venga fermata, la società si comporti come una società in limitazione, anzi, credo che forse il più opportuno è proprio quella di nette organizzazioni, questo non significa non fare servizio, questo significa fermare le azioni straordinarie che possono essere messe in campo e fare solo le ordinarie, e la potere di vedere che la prima cosa rispetto a queste azioni. Io vedo che il consigliere di modalità, non oggi, ma il prossimo, visto che dobbiamo coronare sull'argomento, visto che noi dobbiamo approvare il bilancio di rischio, io chiederò ai consiglieri di maggioranza, al consigliere di modalità, di fare un atto di indirizzo affinché l'azione del sindaco, che sicuramente sarà di buon senso, di buon amministrazione, di dare un atto di indirizzo al Consiglio rispetto a questo momento un po' particolare che sta in regola, perché ciò la faccola? Su questo punto noi stiamo approfondendo quella procedura, perché prende quelle modifiche che avverranno in sede di consigliere di giornata. Mi risulta che poi la partecipazione è anche scarsa, non ci sia stata, c'è stato un parere super negativo da parte dei nostri uffici, quindi questa azione non c'è stata. E' ovvio che noi bisogna dobbiamo andare sotto controllo, perché sono le azioni di Sattana, partendo da questo posto, e in sessantasi per un giorno, la corte di più di tutta la provincia non più si trocca domani. Quindi è una regia di gestire una grande attenzione, una grande prasparenza, ma è una grande attenzione perché è un funzionamento stareggio che garantisce il servizio. Poi comunque questo è un punto che poi, affronteremo sicuramente appena bene un quadro di soluzione. e quindi passiamo alla... se non ci sono altrimenti... Buongiorno a tutti... E' troppo semplice... troppo semplice la partecipazione che l'avamo detto. Oggi ci prendiamo questo compagno, questo allenamento, che è nient'altro che quello che, in più ripresi e più consigli preso politani, noi in un campo vediamo sempre sotto ogni altro. In congruenza, probabilmente, l'inutilità di questa procedura, città di un po' di cane, il 41%, il 5% di un 1%, proviamo a casa, il 31, non so di quale, ma, se mi ricordo bene, a vedere, firmare dal montaglio, firmiamo dal montaglio un atto con un obbligo di fare futuro, per cui, o di dire per dire, non ha studiato bene, che io, come mi faccio dire, è qualcosa che, ce lo stiamo inventando, ce lo sono inventando, parlo del portatore di amministrazione, si depreda con questi ordinamenti proposti, dal lato di gestita, come se voi dà, il fallimento, trovare, di queste procedure del rapporto con la santa, che è un po' di persone. Consigliere, come voi dà, consiglieri, sì, però, abbiamo fallito, abbiamo fallito, pensare di forzare la mano, quando poi l'opposizione a più riprese ha sempre detto, non è una procedura trasparente, non è una procedura che ha sull'obbligo di gestione di, la corte dei conti, si era già espressa, per cui non possiamo giustificarci, dicendo la corte dei conti, ci ha detto poi, ce l'aveva già detto in casetta, l'avevamo detto in questo concetto, progettare, poi, vediamo, che politicamente, sulla santa, abbia fatto, un fallimento, tutto, no. A noi ce lo diciamo, ce lo diciamo nel Consiglio metropolitano, un tempo conto, di quello che il sindaco, sempre, sottolinea, ai suoi santa, dicevamo, se si per la santa, anzi, per la parte, di tutti, di tutti i centri, la raccolta, è entrata con il cernato, è chiaro, siamo consapevoli della difficoltà, della struttura, degli interventi, del problema di intercettare, così, e non è possibile, lei che di questo fallimento, per così, non ce ne sia uno, le scuole, uno, uno, e si prega la colpa, di questo fallimento, e per cui, ne trampa, ne trampa, le dote, conseguenze, io non conosco, l'amministratore, il grand'anno, ma, e a parte l'amministratore, che non proviene, a questo Consiglio Metropolitano, non è in situato, non è stato in situato, a questo Consiglio Metropolitano, che ha avuto questa procedura, e che oggi, noi, e il, il Presidente Civile, il Presidente Civillo, che, propone il Consiglio Metropolitano, mi dispiace che non ci sia, è anche un componente, del lato di rifiuti, come me, in oltre, non sembrare, la scambola, in questo, insomma, assentato, sugli argomenti, posti del lato di rifiuti, del lato di rifiuti, su questa, su questa, su questa procedura, e non sembrare, quello, che dice, me l'avevo detto, o sto dicendo, però, è chiaro, per esempio, io non so, lei, come può, far passare, sotto piano, una struttura, del genere, su Sardin, su questa procedura, c'è un valentino, per esempio, individuo di scorsa, e, per esempio, di un'attività, che è un valentino, per esempio, noi, siamo un valentino, oggi ci siamo, domani non ci siamo, ma, colori, gestiscono, perché nominati, perché individuare, tra le sue procedure, e che smacchiano, devono dare, animati, grazie a te, Faccio solo un piccolo commento al tuo intervento. 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 Ma io penso che lei invece come aggregazione di comuni, questa città del Lomitana, che non si sa ancora bene. Spero che faccio la storia di un piccolo commento al tuo intervento. Faccio solo 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 un piccolo commento al tuo intervento. di un quel intervento. Faccio solo un piccolo commento al tuo intervento. Siccome questo contesto, 검찰 ci sono stati li nostri. verde, noi ci sono stati un piccolo contro, perché gli chicken ferovaraver기를 dire。 La situazione dei luoghi che sanno di mani e scelta. e le stesse dotate e le stesse dotate sani. Faccio solo questo presento, che si prende fuori, sappiamo che significa, e che significa, quindi, le mani di mare, ma sono le bibliotechistiche, no? E che ci diceva poco anzi. Io inviterei, in giù, di consigliere procedimento di dare il governo nazionale, non far uscire la norma di divisi di dicembre, completare la sua presenza ufficiale il 31 dicembre e l'applicazione del minuto dopo la mezzavonte. Cos'è, diciamo, che mi piace, perché in cui mi sono fusa ma anche perché c'è stato il momento, il problema di evitare fino a una massa, il momento della nostra segretà, il primo genere, insomma, per un minuto, una copia davvero stupendo da un'altra città, e non è nani rispettato quello che viene rispettato, la fine del giornale 14,16, anche rispettato, in tempo di che la nonna, che era la patata a livello nazionale, perché i problemi come ci dicevano, anzi, c'è una, ve lo so direvo, davvero quasi un gruppo tra le donne, mi fanno piacere dall'interessante dei domani per fare chiarezza su questo punto. Femorezzare il sabbio è una passata, è giusto il camion, carità di tutti. Al di là delle poste di scrivere sempre i consiglieri, i consiglieri. Il dato d'oggi parte del resto del loro corretto, che si è dato, anzi, da città, chiede la vita abbagata con, diciamo, calvarezza rispetto alle parole che non c'erano più in corso, sono stati più nienti, anzi, da lì, non erano più grossi e vincolanti, diciamo, come lo si dicevano, sono imparati un po' il momento della gestione che abbiamo iniziato, diciamo, c'erano qui che abbiamo iniziato, perché la prima volta della storia, per esempio, è una cosa che questo tipo interviene più garante, non c'erano più. un consigliere questo è un consiglio per essere già un po' politicamente sui gradi non stai ridendo di un'altra che è una zianista ha anche la parte della cittadina dove c'è un quaderno è inutile che impugnare sui miliardi di cento milioni di euro che porta completamente a posto dallo servizio che tolta quando qua noi in città e dei nostri comuni da parte di l'autorato non abbiamo visto un euro di investimenti sui datori e la stessa potremmo di vostra intervenita sull'app ovviamente considerate da tutti che abbiamo qui in aula e che sono presenti all'interno del Consiglio regionale considerate che nelle prossime ore giorni mesi anche qui dall'interno delle campagne delle persone come le nostre elezioni è che non si attende più adattare servizi portando a guardare importanti importantissimi e ecco mi sembra davvero se poi un miliardo di euro di soldi delle nostre famiglie di città di città città di di città di modelli che è è avvento affinché ci stiamo andando a questo punto sulla regione grazie l'ultimo intervento sì io da questa discussione mi aspettava un altro tipo di ragione io sono un sindaco di una piccola comunità la cosa più bella è prenderci sugli specchi e riconoscere quando qualcuno si strage un istante per parlare che siamo in comunità dove ci vengono le cose se la cosa più bella è che si ha fatto una scelta una scelta da chi c'è stata la libertà non era la scelta è la cosa più semplice è la cosa più semplice e se la cosa si va si va è il tema è un'altra cosa e lei deve fare una riflessione serica questo è il gruppo se si può mantenere ancora in essere questa cosa questo è il tema che dobbiamo dire che dobbiamo dare mandato al consiglio al sindaco perché quando noi parliamo di satana e diceva si la società sta a perdere se lo sappiamo ma se ogni anno noi abbiamo il piano perché i costi passiamo in 7 anni da 120 siamo arrivati a 200 c'è qualcosa che non fa non possiamo avere la strada di amici di satana come alcune varietà per rilasciare per rilasciare la pace quando ci sono comuni che hanno dei rapporti di nuori compromissati allora non è che di amici aspettiamo tutti i ragionamenti che con te ma un momento di riflessione sempre simbolo perché lei rappresenta tutto in 92 comuni e lo chiede non solo per consigliere il dito del comune di me una riflessione sempre in questa governance che a mio avviso alla luce di tutto questo di tutto che io mi suggerisco che potremmo fare la decisione venire da lei ripetere le dimissioni di domani e aprire un ragionamento politico chissà che non adesso lo puoi rilasciare ma politicamente di domani perché noi vediamo sempre quello che è e arrivo sempre la nostra partecipazione allora il tema sempre che lei viene esaltata e mi auguro se questa governance può essere mantenuta o va cambiata io le chiedo veramente in questo momento in questa voce va cambiata perché noi dobbiamo fare una politica serena e da sapere a tutela i 92 comuni che hanno presentato non mi importa il tema tecnico si può sbagliare e questa partita io non mi sento dirigere maggioranza importanza maggioranza opposizione perché i due consigli che rappresentano i 92 sono e a di te come siamo andati con noi ci siamo chiari dove anche noi siamo rappresentati l'interno e questa è la verità e questo è la verità e questo è il diritto che chiamiamo il sindaco non del discorso tecnico il discorso della norma tipo che cambia non va il governo che dicevano quante cose ha fatto il governo che si disse la sera per la mattina non è cinque un governo di adesso non è solo uno di si disse allora il primo esempio che si deve vedere questo consiglio deve dare una data al sindaco valutare seriamente se questa governance ha ancora il diritto di stare là ora rassegnano la commissione si deve avere tutto il tempo e la possibilità di valutare per inserire una nuova governance che possa portare un piano serio che noi tutti quanti siamo pronti a sostenere anche per le sue decisioni vogliamo condividere le sue scelte le condividiamo a più però c'è il sogno di fare una nuova cosa e però gli diamo grazie questo è un punto che noi insomma stavamo molti tanto è chiaro che qualsiasi cambiamento si configura anche in funzione di quello che sarà l'assetto definitivo della proprietà di Salma però il primo obiettivo è quella della riduzione dei posti del giocattamento di cui come ha contribuito a quello che mantiene il funzionamento dei disabili ma in realtà chiede quali sono i posti che trovano su Stato della gestione delle discariche che sono ome e improbliche quando non la dimensione il suo ci sono che stiamo alla lavorazione ora ho trari assentuti colorevoli ho poi l'allunamento adesso passiamo alla lavorazione si si d'accordo tu gli altri tre inventamenti che ho fatto alcuni risultiamo almeno si 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 i piligri li do i si 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 allora applausi i voti i voti i voti in a ten объ also Contrari, congiornati, 3 congiornati, astenuti, favorevoli, a prova maggioranza, semigliata, se funzioni, contrari, astenuti, favorevoli, a prova maggioranza, semigliata, 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 sem Florentina, semplici camionata, semplici능, stessa HD, in America Pd.'s ringing raccomando l'haきたafanella momento. Grazie. 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 Non è un'attitudine, c'è solo che non ha una squadra attuale, non ha un'igualità che è una confusione della preoccupazione di un divorzio che è stato fatto bene. E' un atto dovuto, anche ai sensi della normativa che è uscita a maggio, e la loro restituzione che era stata fatta a maggio, mi si dice. L'incidenza ha fatto distanza e noi dobbiamo dare la richiesta, solo per dire, dare la richiesta, io glielo ricordo, ma non c'è niente, ha valenza dopo due anni. Quindi è una richiesta dell'incidenza, la richiesta dell'incidenza, come lui a nessuno ha fatto un dato con la veterinaria, e noi dobbiamo fare un attimo solo, dobbiamo confondere le due piante, perché un piano è la restriczione al bilancio della zona, un altro è, se l'impresa, diritto o meno alla revisione re, se deve avere risorse. Ci sono due fatti con l'energia, io penso che questa è, e che ci siamo più quanti iscritti da questo, perché c'è il sitaco dei giri, niente sacratica, c'è un sitaco di un sitaco che sta proprendo un ambientamento per iscrivere una potenziale su uma favore della società. No, 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 no. in considerazione, che sono tecniche, con altra cosa, dal punto di vista, al fine dell'emendamento, quindi i contabili, questo emendamento praticamente reescrive in bilancio ciò che era stato cancellato in termini di rischio passivo e rischio attivo, come diceva il collega, se hanno finanziato la destra, perché hanno stato cancellato, perché l'opera è stata finita, per effetto di questo ricorso, è come se si fosse riaperto il tema, si è anche verificato che il Ministero continua a mantenere aperta la linea di finanziamento anche per questo evento, soprattutto, quindi questo apprezzo è uno dei primi contabili, è una meraviglia di rispressione, se la città che si era considerata in giro, posso, posso, allora, io faccio la rispressione di tutto, e questo voto per me, io ringrazio il consigliere in civica, perché se è una cosa tecnica, perché io non la posso ragionare, non è detto che l'emendamento deve essere proposto dalla politica quando è un benedetto tecnico, gli emendamenti, molti di questi emendamenti, ti dovete proponere voi dirigenti, non è detto che il consigliere deve a parole un emendamento, io mi aspettavo che questo emendamento fosse fosse dal ragioniere, non c'è come vero, rispetto a questa questione, questo è il mio consiglio, dal ragioniere proprio umano, anche perché il ragioniere, gli emendamenti tecnici di provenienza, diciamo, non dal ragioniere dal ragioniere, dal ragioniere, dal ragioniere, dal ragioniere, da chi ha fatto l'accertamento, perché? Perché c'è una dinamica sotto, quindi la struttura conosce, poi le dinamiche di presentazione vengono a... Perché non posso essere un rossale all'ufficio, non posso essere un rossale all'ufficio, assolutamente, infatti il ragioniere... Io sto dicendo, un'altra cosa, l'intervento che il consigliere mi dice che non ha bisogno di chiedere più le azioni, è che un emendamento politico è diverso dal ragioniere, altrimenti ci cambiamo nella discussione politica, che giustamente è semplice, distingua la tecnica, ma se è veramente tecnico, ma questo è un consiglio, io non mi aspetto che il dirigente dica, poiché ci siamo i sindicati, che nello schermo di bilancio di divisione, che abbiamo allegato il 23 giugno e su cui c'è stato il parere, ci siamo praticamente messi, abbiamo messo tutto ciò, e all'ultimo momento non utilizzare la politica per i danni derivati antidecnici, premesso che qualsiasi dato è giustificatissimo, nessuno vuole fare la tecnica, nessuno vuole fare i problemi, però non mettete in bocca alla politica e mentale antidecnici. Grazie. 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 Grazie a tutti. Presidente, la parola non è riuscita, io intervengo con me in questo contesto civico, però quando vedo delle difese, non sanno tutto, non penso che per lui nel settore, il capo del rettore, ho già visto aver bisogno di un consigliere in Anacoli, dice che lei è un strappato di gas, la sua giunta è un strappato di gas, quindi devo dire, è meno a parlare. La donna che dice, c'è il segretario a sua sinistra, che io posso dire, a parte per il consiglio, per un anno che vuoi, ecco io, non devo dire che nessuno, c'è anche la consigliere del consiglio, che qua fa la ragionanza, è un consiglio grande tra l'opposizione, quindi usa due pesi, il solido cantore, il solore della indicazione civica, non temo altro. Quando le cose fanno, la recisura è un discente, quando fanno un consiglio davversario, dice qualcosa. Non si stradalizza, sindaco, se non ti fate, ti batto a vista da sua vista, non potremmo tutto essere ragione, perché i consigli di destra e bassa a sinistra, e anche di questi consigli di destra e credo di ciò, che mi vengono solo a dire, perché vuoi essere buono, non sei buono su questo caso, e adesso lascio, vabbè, a piacere di me, grazie. Prima ti fico, parola e parola. Il proponente del consigliere precedente. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e poi è giusti di essere ordinati da un'ambiente di naso, e quindi è prodottore, e poi ci sono attrezzati, che è da lì, da anche a questo che visi ovviamente. Stiamo stendo, ci sono altri, interventi di passare alla lavorazione. L'ora montaino trae, astenuti, favorevoli, Grazie. Voglio dire, non capisco, io sono capito per cento con questa vita mia, non c'è la nascita, non c'è mai cosa che non dà mai, 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 non dà mai. Però, se io ricordo, in un dato qui, la politica non c'è anche mai un politico, perché è un ambientamento a favore di una società, poi io, la politica è una cosa così scientifica e sempre ci dà la politica, ma è sempre molto lì. Non c'è nessuno, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Allora, la presto, questa è una cosa, ma io non c'è nessuno, ma io non c'è nessuno, ma io non c'è nessuno. Allora, si è necessario di imparare il capitolo relativo al paramento del contributo Anche per Mediare, perché questo è relativo alla gara in base alla maturina del nuovo barco autobus delle aziende che ascolto di volontà, e quindi un contributo obbligatorio è necessario di imparare. Però le sue cose sono trese da un capitolo che è già appartenente della direzione comunitaria. Ci sono ieri? No, no, no. Sì, da un po' a tutti. Ma da quello che hanno detto, io ho fatto poco fa, poco fa, da lei in genera, ho fatto un'intesa della situazione, che è indirente alla prima, alla prima domanda che ho fatto sempre, e che l'attivo sempre, e che l'attivo sempre, e che l'attivo? Allora, visto che anche il vostro vice sindaco ci volete vedere a quanto pare ha detto su questa cosa, allora noi chiediamo, chiediamo oggi, sindaco, questi argomenti, perdonatemi se lo lo dico, dovrebbero essere anche discussioni con la commissione, sindaco, perché vedete che commissioni si discutono anche tutto questo, visto che sistematicamente, sistematicamente, le commissioni non hanno numero, numero legale, e in primis lei e anche io gli ho posizione, io l'ultima commissione, ho fatto una via chiaro, ovviamente simbola, che considerando che le commissioni non funzionano, e c'è chi viene tutti i giorni, per cercare di risolvere qualche problema, qualche amministratore che ci ha volato, io vivo oggi pubblicamente in questa sala, dove lei e quegli altri consiglieri abbiamo sempre voluto queste commissioni, visto che non funzionano sindaco, non c'è motivo che queste commissioni esistano, perché se io vengo tutte le mattine, e se vengo tutte le mattine, e vado nelle commissioni, e non trovo nessuno, sindaco, è anche umiliante per chi viene, da l'esterno di Cisterna, gratis a svolgere il suo ruolo istituzionale, mi perdoni, mi perdoni, questa cosa perché se io vengo tutte le mattine, a cui lei ci va ogni mattina, a come di Napoli, per risolvere i problemi nella città, in tutte le 92 comuni, in tutte le 92 comuni, mi sembra anche un po' fortissimo dire ai suoi consiglieri, ai suoi sindaci, che se non si raggiunge mai il numero legale, per le commissioni, io come gruppo consigliare l'ETA, con l'età da loro, ho detto che le commissioni vengono a pomeriggio definitivamente, per esempio, ci sono tanti argomenti, che oggi, potevano essere discussi in condizioni, che non sono mai sani discussi, sì, chi viene ogni mattina con me, che deve anche lavorare, con me dei giochi, sembra una cosa abbastanza grave, e faccio un unico intervento, che è un unico intervento per non intervenire, anche a un giunto appunto, sul numero, sul punto numero 12, quindi, visto che le commissioni, non lo so se è di tre regole, ma ne ho un freno, chiedo che sia inviato, per quanto riguarda questo regolamento, perché i regolamenti, come mi hanno insegnato da amministratore, in primis, in riferimento. Grazie, signor, perdonate... Allora, sul secondo emendamento, relativo al controllo urbano, ci sono altri interventi, progressiamo alla votazione, contrarie, astenuti, favorevoli, approvato da unanimità. Grazie. 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 Adesso ci sono gli amicinamenti 3, 4 e 5, che riguardano la professione civile. Alla, questi li consideriamo i diratti, sì. Signor, come ho detto, 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 vi inviamo, con il meditino, anzi, il meditino, il meditino, con i fatti già prima che distruggavamo, che poi, grazie al sottoscritto, come hanno detto, le protezioni civili, sicuramente, avranno un contributo, un contributo, e, come dice il delegato, l'amico Fosco, si stava già ragionando che per dare un contributo a tutti i 92, a tutti i 92, visto che non facciamo, non facciamo, però, vediamo come possiamo fare, per aiutare i comuni, interessati, visto che ci sono, delle, delle feste più importanti, che sicuramente, era invito, pubblicamente, a Busciano, non lo so, se è già, visto che, sono l'unico, consigliere, e, della zona, mi raccomando, poi viene a Busciano, la prima cosa, viene, viene avversata, grazie, poi, gli altri, tre, gli altri tre, sono, però, ancora più, più grosso, e, per quanto riguarda, il consorso, di politica del Stato, la sindaco, noi, a Stato, ogni tanto, ci andiamo, quando ci sono, i consigli, l'ultima volta, che siamo andati, il consigliere Garazzo, il consigliere Garazzo, di Europa, perché, diciamo, la regione, la regione, con il nostro Presidente, di Luba, che oltre a Pappettano, noi facciamo, e, noi facciamo, l'interesse della città, metropolitana, ci hanno chiesto, sinceramente, un aiuto, per quanto riguarda, ehm, mezzi in mezzi, perché, sono, problemi di parecchie cose, e quindi, ehm, se noi, non discutiamo, questo accettamento, per quanto riguarda, la città metropolitana, del sindaco Manfredi, al consorzio di politica del Sallo, che stiamo, sia a spopolare, alla nostra Presidente, della regione, che oltre a fare, il, il, il Duffone, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha un segnale, molto forte, perché, la città metropolitana, potrebbe che, sicuramente, lavora, e i suoi consigli, in modo di dire, anche se non vedo, in condizioni, sono, grazie. No, grazie. Allora, puoi spiegare, ehm, l'amendamento del 4 e 5, sono, ammendamenti, che, vengono, ammendati. Adesso, abbiamo, una serie di ammendamenti, un attimo di attenzione, che sono, in 6, 7, 8, che sono stati, sono stati, che sono stati, presentati all'area, che sono emendamenti, che richiedono, l'opertura finanziaria, e anche il 9, 10 e 12. C'è un parete, non favorevole della ragioneria, perché la ragioneria, dice che ovviamente, questi possono essere poi, eventualmente, messi sull'avanzo, in bilancio. Quindi, oggi non c'è un po' per tutta, su questi, su questi, su questi, sono, il 6, 7, 8, 10, 11, e 12, di cui, il, il, 6, 7, 8, presentati dall'area, il 10, presentato da, il 11, presentato da Salvino, e il 12, presentato dall'area. Quindi c'è il padre negativo, adesso, su questo, su questo, il ragioniere, se vuoi più, promuovere i ricchiati, e poi, i rivalutati, in sé, e poi, di assessamento, di valutazione, dell'avanzo. Io, se siamo da, se siamo d'accordo. E come parelli, non favorevole, per assenze con tutti, che non è individuata, è specificata, la posizione. Poi, proceduramente, non è per evolutivo, o no? Ma, io penso che sia meglio, che si richiede, evidentemente, però, se ci propone, in sé, di valutazione all'avanzo. Sabino? Sì, sì, abbiamo condivido, il ritiro, un attimo, però, suggerire, anche a ragioniere, che, di condividere, a volte, quando vengono parte, diciamo, degli annullamenti, primissimi, che si è già, attivati, e per le quali, si sono, solte già le procedure, che riguardano, la potenzione, straordinaria, degli immobili, comunali, che erano, alla firma, delle punte, iniziali, gli interventi, oggetti, di, ehm, condividere, affinché, ehm, gli uffici, non si trovasse, le difficoltà, perché, abbiamo avuto, abbiamo, probabilmente, le difficoltà, e quindi, dovevano mettere l'avanzo, a fine di completare, determinati, attività, e determinati procedure. Grazie. 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 Presidente, che è sottoscritto, aveva pensato di dare il contributo, grazie alla città, vero qualità, per, per incentivarli, a, a, a fare lo servizio, cedile, cosa che, ultimamente, dalle nostre macchine, non lo ha fatto, per una, perché, poi se non hanno neanche le macchine, se non hanno gli strumenti, non è che possono fare, un, un servizio. quindi si era ammissato di fare questo. I paleri però dobbiamo parlare di una cosa molto importante che c'era stato il paleri favorevole da tutte e due parti, quindi io da persona di Tarora ho tenuto l'opportunità di ringrazi perché anche in sua presenza mi avete promesso che poi dopo si divisterà il tutto e grazie a tutto il rispetto magari andremo a dare a tutti i comuni, un contributo che mi sembra una cosa fatta a me dalla centrale comunitaria e questo lo infelite per la protezione civile. Per quanto riguarda il salto, ho già detto tutto, gli altri due sono delle manifestazioni sempre culturali in cui molto importante, pomigliano, 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 c'è tanto per eventi per quanto riguarda cantanti di un certo livello, quindi anche qua mi hanno dato un bene colorevole, quindi come sempre ci siamo messi d'accordo io mi giro tutte le serie, magari poi che imparghiamo. Quindi grazie a dopo. Ok, grazie. Ah, se non ha, ma non possiamo parlare niente poi per aiutarti, in frattempo questi nostri comuni, visto che stanno un po' in difficoltà con i tuoi uomini, ecco, senza... da flocco con la protezione civile, senza toccare la protezione civile, nel frattempo a canturare un po' per incentivarsi i tuoi uomini. Allora, consiglio, come avevamo detto prima, l'impegno dell'amministrazione c'è, quando riguarda il ragionamento della protezione civile, quando riguarda quello che tu hai sottoposto all'aula in termini di aiuti alla protezione civile dei tre comuni che hai sottolineato, magari ci si vede, diciamo, da un ufficio e cerca di trovare le serie giuste, anche attraverso la protezione civile regionale, per valutare questi tre elementi importanti che hai sottolineato, ma anche il lavoro dell'amministrazione. Quindi sono a tua disposizione, come di tutta l'amministrazione. Grazie. Ok, grazie. Allora, poi abbiamo un'avventamento nuove, cessione satta in avventimento degli identitati, questo si è scritta, il sede di un'altra. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. non c'è nemmeno un altro non c'è nemmeno se mi chiede gli eventi che hai fatto non le scriviamo la vendita della vota del 51% della società stata propria amministratore in precedenza e che era sottoposta a una condizione insolvita e in un momento che alla data del 15 giugno quando il passamento delle vote non si è realizzato siamo di fronte alla necessità di riga di quale il bilancio che mi cancella il marco è una posta che non destrava a fare un'operazione simile prego, vi vuole intervenire prego non c'è nessuno se c'è qualche tecnico zappa vai Faccio l'intervento su questo emendamento perché questo consiglio è la prova del metodo sbagliato di preparare gli emendamenti. Questo è un emendamento sbagliato, di fatto oppure l'emendamento a un consiglio, questo è un emendamento tecnico al 100% perché si prevedeva l'ingresso di 519 mila euro, il 15 su. Domanda è perché avete fatto l'emendamento del 26? Perché il 26? C'è uno sfondamento totale tra l'area burocratica e l'area politica. E sul bilancio sta oggi, state praticamente avendo delle troppe che vi guardano proprio gli emendamenti. Io chiedo, il 15 giugno la ragionaria doveva avere sul conto corrente di città metropolitano 500 e 100 mila euro. Il 23 giugno la ragionaria doveva avere il bilancio di città metropolitano e chiedete a politico seduto in questa aula di fare l'emendamento. Guardate, è veramente superiore quello che sta avendo, quindi vi fate la protesia, un ulteriore intervento, un ulteriore apidire, gli emendamenti cretici, preparatevi voi. Fini, finissima, finissima. Finissima, finissima, finissima. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La richiamiamo al vicecautato che sta a fare il balleo e a tutti i stati collaborano con la voce, soprattutto gli ultimi non in acqua. Grazie a tutti. Chi è favorevole? Grazie a tutti. 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 molti degli argomenti che premono l'universale, la mancanza di una missione sul piano pienale, la mancanza di riguardo a spettare singoli cittadini, alle famiglie, non c'è una delle case di città di programma che ha avuto a pieno una bellissima diffusione. Vi abbiamo riproposto lo stesso bilancio identico rispetto al piano che ha fatto del sindaco di Macistris. Non me ne voglio, signor Comandini, ma la sua mano, il suo intervento in parte dell'amministrazione del Consiglio. Non sappiamo ancora qual è realmente l'obiettivo, ci dobbiamo correre da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni e ai prossimi anni. Manteniamo un piano strategico metropolitano, in esercizio non rispettando quello che lo stesso Consiglio metropolitano ha deliberato più poco, c'è il recupero delle economie, la rifiutizzo per i nuovi progetti delle economie, non c'è più una discussione seria sulla nuova programmazione, si aspetta di essere miracolata attraverso il PLR che è più a dire, c'è, e tutti quanti non lo decideranno a fare. Ma non credo che città metropolitano, che viene d'altronde castigata pubblicamente più volte dal Presidente della Regione Pappaglia che non si rende ancora una forte presa di condizioni di tutti noi che si chiede metropolitano, nemmeno fatto in questo Presidente che fa il Pasquale a Fattiva e il Pasquale anche alla Sede. Bisogna essere chiari in questo interagionamento di valore e dell'importanza di città metropolitana. Io realmente spero che stiamo l'anno prossimo e che soprattutto questa riforma contenga queste nuove competenze e soprattutto in sanabilità che città metropolitana deve avere. Ma già oggi città metropolitana ha abbastanza capacità per vivere e per brillare di quella di luce propria, per cui non abbiamo bisogno dei postori di turno per decidere o non decidere se noi lavoriamo, se funzionano, se servono, se non servono città metropolitana. Caro sindaco Montri, il mio voto contrario, il voto convinto è che lei ancora oggi non ha dimostrato qual è la mission di questa città metropolitana. Lei non ci ha detto qual è la vera trasformazione che vuole creare nel nostro diritto, per cui probabilmente se ci saranno iniziative in maniera diversa si potranno vivere la città metropolitana. Sono stato attuato, siamo convinti. Le chiediamo su una cosa. Ci difenda e difenda lei e non faccia non faccia realmente come mi dice la gente e le persone politici che ci danno con l'ansia e non faccia l'ansia del comune di riferimento. In questo caso, ma lo potremmo dire, e lo dico di tutti i comuni, capolunitana. Grazie. 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 Ci sono altri interventi. Non raccomandiamo l'immediato di esegubilità, contrarie, non c'è di nuovo punto, astenuti, favorevoli, provate alla guarda. Grazie. 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 Grazie a tutti. V tadi consigliere Rai a promuovere di rispostare perché sarebbe approfitto questo regolamento prossimamente. Ci sono interventi questo? Consigliere Sino. Sindaco, noi come gruppo riteriamo che esistono i provvisi che il regolamento oggi vada a portare in discussione al Consiglio Metropolitano, perché abbiamo visto anche oggi che c'è un regolamento in parete modifiche. Quindi, come professoressi e riformisti, riteriamo che vada a discorso e vorremmo anche seguire la scuola degli emendamenti per dare il contributo migliore a questo regolamento. Grazie. 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 del conflitto di numerografiche e tecnologiche di cui andare a intervenire, a intervenire in modo a fare gli avvisi pubblici, a dare l'intervento. Quindi è essenziale comprendere che l'avviso pubblico è prendendo caldo di giusto il risultato. Almeno a questo c'è la possibilità, da parte del senso del sindaco, di legare un'attività di presenti di carattere straordinario, a un massimo, al 10% di attività che sono a posta della risultato e che hanno un elevato modo di restituzionare. Quindi, diciamo, regolamenti, si basa con questi due giorni, ha probabilmente in qualche modo approvato una sorta di riportazione che sia una riportazione che, detto nuovamente, per tutti coloro che le riportazioni che comunque vogliano partecipare alle azioni pubblici, una riportazione che sia chiara come il loro, cosa che il detto regolamento è anche a meno deficitale, quindi è un'attività di un'attività di molto più molto, è un'attività che è possibile, a modo di sospettire, per, diciamo, le accadrezioni delle amministrazioni. Il nostro passato è essenziale, perché questo regolamento, oltre a regolamentare questa parte della stessa, altre che le provvedenze economiche, regolamenta anche il patocinistico, quindi, appunto, facciamo valenza piuttosto grande. E' un confinio, anche, che il sindaco metropolitano ha presentato due, diciamo, due mentalisti, che ha l'articolo 15 e l'articolo 6, se ci ricorderò, ci leggerò. L'articolo 15 è stato inventato in questo modo, la concessione di vantaggi in attore economica che disposta da dirigente competente a favore dei soggetti e l'articolo 16, indicata all'articolo 4 e all'articolo 16, per rispetto, semplice di rinunciare del presente regolamento. L'articolo 16 è, ancora in un dato in questo modo, a ragione concessuale ai soggetti, individuata all'articolo 4, ma anche a pressione fisica, e società di semplicemente in organizzazione, senza scopre il gruppo di particolare. Il significato sociale del culturale, ovviamente, questo è un'attività che abbiamo dato sia io che abbiamo fatto con le altre stesse regolamenti. Scusate, lei è sempre molto attento e sempre senza. Allora, secondo lei questo regolamento, che è un regolamento molto importante. Non era meglio fare una discussione in una commissione e non venire qua in un consiglio a leggere, a diventare o a proteggere. Cioè, questa è la piccina politica. Se sono state istituite le commissioni per far funzionare la città neopoglionale, e noi le commissioni non discutiamo neanche regolamenti, ma la città che stiamo facendo va tutto al contrario. Quindi, visto che noi abbiamo avuto un massimo fiducia, lei e la dottoressa Costa per quanto riguarda questo regolamento, io non vorrei che in questa sede lei leggesse tutti i regolamenti punto per punto e poi c'è anche la domani mattina. Quindi, visto che noi siamo sempre delle persone molto aperte alle discussioni e roba varie, oggi, io oggi, le chiedo di leggere, punto per punto, tutti i regolamenti. Cosa che dovrebbe farsi nelle commissioni. Perché il consiglio per controllo di l'anno si muove il regolamento in questa casa. non lo capiscono anche sul turismo dei malagio massimo di queste cose. Allora, da una carta che prendono bene l'altro, ma si è sottoscritto, si è sottoscritto, ritira gli regolamenti. La persona sede è più bella. Perchè non rinunirà in questo punto all'ordine del giorno, rispondendo una connessione. un po' di vero maligno. Vogliamo fare una valutazione sulla proposta della... Al Valle di questo continuo di considerazione, perché il regolamento fa una sola montezza. Quindi, chiedo alla seconda proporzione di miglioramento. Purtroppo. Sindaco, diciamo che, riflettendo adesso quello che diceva il consigliere Alaga, avendo anche lui come gruppo vorranno proporre una serie di emendamenti agli articoli, per dare una mobilità che lo dico già adesso, come per esempio all'antimo nove, quando, al punto sette, viene ricordato che si aprisse al finanziamento secondo domenica dell'area da sopra. Volevo inserire, per dare avventi comuni, di dare un vantaggio comuni sul discorso, su questo. E poi, sul punto dieci, invece di testare il discorso, ricordare il discorso. E poi c'è una discrasia sul ragionamento, che ci viene fatto dall'ufficio e dal segretario. Noi, i nostri comuni, e questo vuol dire, e poi, anch'io, sono augurito che dobbiamo cambiare la propria, perché dobbiamo appoggiare la propria. I nostri comuni, caro venire da un dito, caro segretario, puntiamo per il quale, per il nostro dato, e le proposte di manifestazione. E l'amministrazione basta e decide quale finanziamento e non quale finanziamento. non è un'azienda che si può fare. Allora, sinceramente, io, dal titolo lavoro, non ho fatto mal di vedere, non ho visto da qui, perché dovrebbero arrivare le proposte. La commissione, quando, se sono rispondono a quelli, quindi dovrebbe essere una scelta politica di fare il dito e te. Perché, caro Pasquale Coppino, e lo dico a te, dovrebbero fare sempre con la testa domenica, e se hai professato la distrazione. Da una parte ci dobbiamo fare cosa, però vogliamo la possibilità, dal titolo inizio al sindaco, per i membri, in un certo diverso, che con la sua diretta, tipo andare a finanziare. Allora, io mi dico 15%, poi mi metto un 50%. Perché io voglio capire come sta, da una parte, per l'intervento, il sindaco, con una direttiva proposta, poi serve uno proposta. E gli vogliamo valutare, vogliamo portare il consiglio per propostare. E vogliamo scegliere dove, non è così. Allora, io mi stavo, ma non voglio capire, perché da una parte da un sindaco, in caso del 10%, non decide non dire questo. Scusate, che cosa fa? Lato decide il sindaco, lato è una cosa che deciderebbe. Non è questo. Perché sul resto decidete tu. Vieni, l'altro, ti racconti. Ma una valutà politica, perché nel mio confezio, se decidi di finanziare una manifestazione, è una valutà politica. Non può essere, esplicitivamente al funzionario, che decide fare un istruzzo, e fare un gradatore. Chi arriva prima? Chi arriva prima da un gradatore, prende i soldi. E casomai, la gradatore ti dice, faccio una taglia, e entra, e pensi che io faccio un'iniziativa di valutà, ma arrivi. Allora, sì, questo è un tempo. E' su questo tempo che mi voglio. Vanno riformare, voi potete dare, non potete dare, alla politica. E questo è una miniatura, se vedate, se vedate, ecco, ah, tu devo un po' lo che fate, questo è quello. Da una parte, diciamo una cosa, e poi l'articolo 10, che io devo dare al sindaco. Ci sono nati da qui, il sindaco, per caso eccezionale, può fare. ma fatemi capire, la mano destra, 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 il pochino a te, se ne dà. E' possibile questo? Se è possibile, da qui lo dici, è possibile, un po' lo dico. Se vedete, io ho sentito una risposta, una domanda ben precisa. Perchè lei, pure di tutto, la macchina, la dinamica, il controllo, la traccia e la traccia. Al punto 9, devono fare impatti, devono fare, al punto 10, al sindaco, in casa, del tutto, con la sua dire, non lo stiamo tutelando, su questo rapporto. Non lo state tutelando, perchè da un'altra parte, io inizio, io ho notizio, uffa, vada direttiva, ecco, dall'altra parte, facciamo il bando, poi la commissione della città, chi arriva prima, negli euro, e dopo. Ascolta, mi dovete riferire la coppia, perchè io ho il diritto, il mio dettaglio, c'è un'altra parte, e aspetto risposte da lei, se è fatiglia questa cosa. Perchè se fate il concetto dell'articolo 10, facciamoci un articolo 10, come l'amministrazione, ritenute, anche tra le domande, accogliente e amministrazione, ci vogliamo, una volta, per pubblicare le scuoleioni, ci vogliamo assicurare la responsabilità, dove facciamo i nostri conti, dove scegliamo nuove cose da raffinare. Prego. Cari signori, consiglieri, ho tenuto conto anche delle difficilà, diverse, in questi ultimi interventi, come il gruppo del gruppo di corpistiche, progressiste e corpistiche, e credo, anche, che abbiamo sentito, in più che abbiamo avuto la maggioranza, credo che la nostra proposta sia quella, di andare nella direzione, di rimandare questo caso, che abbiamo fatto il Consiglio, i 10, quindi, possiamo provocare anche, un'arrivo di commissione, ma va bene, perché portate a un prossimo Consiglio, se le cose vogliamo... ...una cosa, perciò la commissione, perciò la commissione, perciò la commissione, perciò la politica, non usciamo i problemi, praticamente, vogliamo dare una organizzazione, all'articolo, se si può fare, la scelta, la politica, in commissione, sufficiente, se avrà in condizione, poter essere davanti. perché, se tutti, noi iniziamo questo modo, mi è già di calo, sì, è che l'altro, sì, 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 di origine, venite. Sono d'accordo del rivito, sinceramente, in situazione, che mi sono messiata, credo che è opportuno, parlare prima, fare una discussione, un attimino più ampia, eventualmente, il prossimo consiglio, se c'è giorno 10, possiamo la fare, come vediamo. Questa è la processione del nostro. Presidente della Commissione del nostro. Presidente della Commissione del nostro. Veremo che il nostro. Abbiamo alcun este. Grazie. 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 Allora, l'ora punto 13, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, sentenza giudice di pace di Napoli 901, titolo 803, contrari, debiti fuori bilancio, contrari. Un attimo che finiamo, 5 minuti abbiamo finito, contrari, due contrari, due contrari, assenuti, favorevoli, prota maggioranza, 14, riconoscimento del debito, immediato il seguito di istituzione, due contrari, due contrari, due contrari, assenuti, favorevoli. Poi punto 14, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 808. Poi punto 14, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 803, inseruti, favorevoli, prota maggioranza, 14, riconoscimento del debito, assenuti, favorevoli, prota maggioranza, 14, riconoscimento del debito, assenuti, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 803, inseruti, favorevoli, prota maggioranza, 14, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 804, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 808. Punto 16, di più 15, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 802, punto di istituzione, contrari, astenuti, favorevoli. Punto 17, contrari, astenuti, favorevoli. Punto 18, contrari, astenuti, favorevoli. Mediare di esecuzione, contrari, astenuti, favorevoli. Punto 19, contrari, astenuti, favorevoli. Mediare di esecuzione, contrari, astenuti, favorevoli. Punto 20, contrari, astenuti, favorevoli. Mediare di esecuzione, contrari, astenuti, favorevoli. Punto 21, questa sentenza giudicisca, contrari, astenuti, favorevoli. Contrari, mediare di esecuzione, contrari, astenuti, favorevoli. Pensa 4. Poi punto 22, contrari, astenuti, favorevoli. mitare di esecuzione, contrari, astenuti, favorevoli. Punto 23, contrari, astenuti, favorevoli. La linea è sempre contraria. Mediare di esecuzione, contrari, astenuti, favorevoli. Poi punto 24, 4 contrari, astenuti, favorevoli, migliaia di esecuzione, contrari, astenuti, favorevoli. Poi c'è il punto 25 che è legale, perché il Consiglio è finito, ha lasciato l'astituto, no, è che non c'è il tipo, con l'internozazione non c'è il tipo. Grazie mille, grazie mille.